Un'economia più inclusive al servizio delle persone, in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Se ne è parlato durante il convegno organizzato da Conf Cooperative Emilia Romagna. Al centro l'economia sociale, con la cooperazione come attore principale, per guardare al futuro e alle transizioni che ci saranno, utilizzando al meglio le risorse a disposizione. La valorizzazione del modello della cooperazione dentro l'ipresa sociale è data nei contenuti, è un modello democratico, è un modello partecipativo, è un modello che nasce dai territori e quindi restituisce i territori. Pensiamo che questo debba essere un po' al di là dell'impresa cooperativa, lo stimolo che soprattutto questa regione che è culla di cooperazione debba dare come impulso rispetto al futuro. Bisogna però mettere in campo misure che accompagnino le imprese in un percorso di sostenibilità rispetto al tema della transazione ecologica. Non c'è un'impresa nel deserto che è in grado di reggere, hai sempre bisogno di una struttura di economia sociale, quindi hai bisogno di sanità, di welfare, di allungare la mano alle figure più deboli. Questa è una discussione che si è aperta anche in Europa, c'è un patrimonio della cooperazione su come si gestisce l'economia sociale, quindi saranno partner fondamentali nel fare questa discussione in regione. Ora dobbiamo fare il progetto definitivo a disposizione di tutte le nostre città, enti locali e soprattutto le persone più fragili, perché quando parliamo di economia sociale parliamo sempre di ricucitura sociale.